Amici avventurieri bentornati sul canale ditelo do io il dungeon io sono Lorenzo e sono il vostro Dungeon Master Vintage. Oggi ragazzi vi voglio parlare di un iconico incantesimo della classe del mago ovvero sia di scudo e cosa c'è da capire su scudo magico? Allora cercando in rete ho trovato diverse domande poste dai giocatori su questo incantesimo e quindi nonostante sia un incantesimo abbastanza elementare da utilizzare ho pensato di fare un video di approfondimento. Nonostante l'incantesimo si chiami scudo oppure shield se preferite in inglese per questo video di approfondimento lo chiamerò scudo magico. Detto ciò non mi resta che fa partire l'approfondimento scudo magico ragazzi 3 2 1 via! L'incantesimo scudo fortunatamente è stato rilasciato con il set delle regole che viene chiamato D&D Basic per cui ve ne posso parlare con una certa libertà. È un incantesimo di primo livello della scuola di abbiurazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le sue caratteristiche. L'incantesimo scudo magico ha il tempo di lancio pari ad un'azione di reazione. Ciò significa che l'incantatore deve possedere la reazione disponibile per quel round. Ad esempio non potrebbe lanciare sia scudo magico che contro incantesimo senza ricaricare la reazione. La reazione la trovate spiegata a pagina 190 del manuale del giocatore se volete approfondire l'argomento. L'innesco scatenante di scudo è quando il mago viene colpito da un attacco o diventa l'obiettivo di un dardo incantato. La prima cosa pertanto che ci chiediamo è che cos'è un attacco e tutto ciò che viene effettuato con un tiro per colpire. Ad esempio essere bersaglio dell'incantesimo fiamma sacra che non effettua nessun tiro per colpire ma richiede un tiro salvezza non fa scattare lo scudo magico. Invece essere colpiti da dardo di fuoco che è un attacco in quanto effettua un tiro per colpire fa scattare lo scudo naturalmente se lo desiderate. Naturalmente è scudo magico quindi lo potete alzare anche se venite attaccati in mischia ad esempio con un attacco di arma da mischia con un colpo senza armi e anche a distanza con un attacco con armi a distanza per esempio con un arco con una balestra e così via. Ecco ricordate questo particolare serve un tiro per colpire ma scudo magico protegge anche da dardo incantato e se ricordate dardo incantato non effettua un tiro per colpire quindi è un'eccezione alla regola. Sull'incantesimo dardo incantato ho già fatto un video di approfondimento e può diventare un grosso guaio per un incantatore sprovveduto infatti ad esempio le immagini speculari non vi proteggono da un dardo incantato in quanto quell'incantesimo non effettua un tiro per colpire quindi fareste bene ad avere con voi sempre memorizzato lo scudo o scudo magico come lo chiamo io in questo video. Seconda caratteristica offre un bonus di più 5 la classe armatura davvero notevole infatti migliora la vostra classe armatura in modo incredibile se è memorizzato da un incantatore corazzato potrebbe fare la differenza in molti combattimenti anche se vi consuma uno slot. Il povero mago invece lo userà gran poco ma per esperienza conviene averlo memorizzato perché per esempio solitamente il mago sta fuori dalla mischia. Il bonus si applica subito anche al colpo che potrebbe avervi colpito in questo modo potete anche evitare le conseguenze del colpo ad esempio se avete una classe armatura di 13 e il tiro per colpire 16 se alzate lo scudo magico la vostra classe armatura diventa 18 e in questo modo evitate i danni quindi voi dovete sapere la classe armatura che viene colpita e da lì poi decidete se alzare o meno lo scudo magico ed ecco un'altra bella caratteristica non dura solo per il colpo subito ma dura fino all'inizio del vostro turno successivo. Tenete a mente questa regoletta quando ricaricate la reazione lo scudo magico sparisce. Ricapitolando l'avversario colpisce classe armatura 16 ma voi alzate lo scudo e portate la vostra classe armatura a 18. Mantenete questa classe armatura a 18 per tutti gli attacchi successivi da parte sia del nemico che vi ha attaccato sia da altri nemici fino a che non torna il vostro turno. Quarta caratteristica utilizza componenti verbali e somatiche attenzione quindi per lanciarlo non dovete essere ammutoliti o in una zona di silenzio e dovete avere almeno una mano libera salvo utilizzo di opzioni metamagia se siete dei combattenti corazzanti che si avvalgono dello scudo magico per affrontare gli avversari più tosti ricordate bene di avere una mano libera altrimenti con spada e scudo impugnati non riuscirete a beneficiarne e in tal caso vi servirà l'apposito talento incantatore da guerra. E per finire altre caratteristiche allora abbiamo già detto che è un incantesimo di primo livello della scuola di aburazione e poi aggiungiamo che l'incantatore lo può lanciare solo su se stesso. Chi può lanciare scudo magico? Ora andiamo a vedere. Allora l'artefice della sottoclasse dell'artigliere o del fabbro da battaglia può lanciare scudo magico oppure un bardo al decimo livello con segreti arcani può apprendere lo scudo anche il bardo del collegio della sapienza al sesto livello con segreti magici aggiuntivi può imparare scudo magico oppure il guerriero con l'archetipo del cavaliere mistico in quanto può impararlo in quanto ha accesso agli incantesimi di tipo aburazione oppure il ladro con l'archetipo mistificatore arcano ma solo se di livello 3 8 14 e ventesimo in quanto può apprendere un incantesimo da qualsiasi scuola della classe del mago. Poi naturalmente c'era il mago e anche nella lista degli incantesimi dello stregone e poi è presente nella lista degli incantesimi del warlock ma della sottoclasse x blade. Oltre a ciò vi sono dei talenti magici ad esempio come iniziato la magia potete scegliere il mago oppure stregone che vi permettono di lanciarlo. Ecco se vi viene in mente qualcos'altro me lo segnalate di sotto nei commenti. Ed ora vediamo una serie di domande e risposte su scudo magico tratte direttamente dal sito Sanjdevice da tweet. Prima domanda un incantatore può lanciare scudo magico anche se non viene colpito da un attacco o da un dardo incantato? Ora in sintesi qui il giocatore chiede a Jeremy Crawford se può usare lo scudo magico come azione invece che come reazione e il game designer della wizard invece gli risponde che le regole parlano chiaro solo come reazione. Seconda domanda se si attiva scudo magico si innesca anche la difesa dal multiattacco del ranger cacciatore? Allora l'incantesimo scudo magico può trasformare un colpo in un fallimento se riesci a farlo non sei stato colpito. Di conseguenza la difesa del multiattacco descritta a pagina 106 del manuale del giocatore non si attiva non attivandosi non si beneficia di un complessivo più nuovo alla cassa matura che era forse l'obiettivo del giocatore quindi sommare la difesa del multiattacco assieme a scudo magico. Terza domanda un paladino può lanciare scudo magico come reazione ad un attacco al suo destriero? Naturalmente parliamo di un paladino che conosce l'incantesimo scudo ad esempio perché ha preso il talento e iniziato la magia. Allora per capire il senso della domanda bisogna andare a leggere l'incantesimo trova cavalcatura di secondo livello della lista del paladino e lo troviamo a pagina 287 del manuale del giocatore quindi quando l'incantatore in sella ha la cavalcatura può fare in modo che ogni incantesimo che bersaglia solo se stesso bersagli anche la cavalcatura quindi scudo magico è un incantesimo che bersaglia solo l'incantatore di conseguenza la domanda del giocatore è lecita tuttavia non vada nella direzione desiderata. Ecco la risposta di Jeremy Crawford l'incantesimo scudo viene attivato quando vieni colpito una volta lanciato i benefici dell'incantesimo trova cavalcatura si estendono la tua cavalcatura. Allora se ho capito funziona così di conseguenza se il paladino viene colpito può lanciare come reazione scudo per proteggersi e facendo ciò protegge anche la sua cavalcatura ma dalla risposta invece non sembra avere il contrario quindi se viene colpita la cavalcatura non puoi tu lanciare scudo magico per proteggerla come reazione a meno che non si possieda il talento combattere in sella. Beh in quel caso lì l'attacco in effetti della cavalcatura viene dirottato al cavaliere e quindi al paladino il quale può lanciare lo scudo. Combattente in sella scusate no combattere in sella. Altra domanda si può lanciare scudo in risposta a stretta folgorante? Allora stretta folgorante è un incantesimo che richiede un tiro per colpire è un attacco con incantesimo quindi di conseguenza si si può fare. L'incantesimo scudo funziona contro altri incantesimi come raggio di gelo o solo con gli attacchi mischi a distanza? Allora l'incantesimo scudo magico si attiva quando si viene colpiti da un attacco anche se magico e quindi serve un tiro per colpire che colpisca l'incantatore per essere attivato quindi lui si attiva anche contro gli incantesimi che effettuano un tiro per colpire. Poi si può ottenere un bonus la classe armatura sia da scudo magico che da armatura magica? Eh sì certo. Se si lancia un incantesimo con l'azione bonus posso poi lanciare scudo come reazione nel mio turno? Allora se si va a pagina 202 del manuale del giocatore paragrafo tempo di lancio azione bonus non si potrà lanciare nessun altro incantesimo durante quello stesso turno ad eccezione di un trucchetto che abbia un tempo di lancio di un'azione. Questo appunto è un caso particolare quindi l'avversario potrebbe aver preparato l'azione colpisco l'incantatore quando lancia un incantesimo. Quindi ad esempio l'incantatore lancia arma spirituale che richiede azione bonus e l'avversario attacca e lo colpisce. L'incantatore può lanciare come reazione scudo magico? Allora la mia risposta credo sia no poiché la regola parla chiaro scudo magico richiede una reazione ed è pure un incantesimo di primo livello. Se invece l'incantatore avesse usato la sua azione per lanciare palla di fuoco e l'avversario l'avesse attaccato e colpito avrebbe potuto lanciare come risposta con la sua reazione scudo. Allora su questo caso voglio tornare non so se avete capito allora la regola dice che non si potrà lanciare nessun altro incantesimo durante quello stesso turno ad eccezione di un trucchetto che abbia tempo di lancio un'azione quindi se ho lanciato un incantesimo con l'azione bonus. Quindi se il mio incantatore ha lanciato un incantesimo con l'azione bonus non può di fatto difendersi da un attacco contemporaneo che mi arriva nello stesso turno quindi nello stesso turno di quel lancio di quell'incantesimo io non posso proteggermi con scudo in quanto scudo non è un trucchetto. Invece se l'incantatore tipo avesse usato la sua azione per lanciare un incantesimo potente come parla di fuoco avrebbe potuto comunque utilizzare lo scudo come reazione per proteggersi. Allora io ho capito questo casomai mi segnalate nei commenti se il mio ragionamento è fallato e sbagliato. Altra domanda potresti lanciare un incantesimo scudo da una pergamena come reazione? La risposta è sì. Altra domanda per lanciare scudo magico che è una reazione devo usare l'azione prepararsi? No la risposta è no ad esempio non serve preparare un attacco di opportunità per sferarlo e allo stesso modo non serve preparare uno scudo magico per utilizzarlo come reazione. Ed ecco una domanda interessante sul bastone della difesa staff of defense il quale consente di lanciare lo scudo come un'azione ma lo scudo noi sappiamo che è una reazione quindi è stato un errore di battitura oppure proprio lo si è progettato in questo modo? Allora la staff della defense quindi il bastone della difesa trovate nell'avventura la miniera perduta di van delver questo bastone infatti consente di lanciare scudo come azione. Un dungeon master potrebbe anche consentire di lanciare l'incantesimo come reazione almeno questa è stata la risposta di Jeremy Crawford quindi sì in questo caso si può lanciare come azione ma un dungeon master potrebbe permetterlo anche di lanciarlo come reazione. Ultima domanda interessante allora è capitata una situazione in cui un giocatore avendo un incantatore ha lanciato l'incantesimo scudo anche se era accecato. Allora questo è possibile oppure si deve vedere l'attacco cioè si deve vedere chi sferra l'attacco che vi colpisce per alzare con l'azione di reazione lo scudo? La risposta è stata questa se lanci l'incantesimo scudo in risposta al fatto di essere stato colpito da un attacco non hai bisogno di vedere l'attaccante o l'attacco se avevi bisogno di vedere l'uno o l'altro l'incantesimo lo avrebbe specificato quindi l'incantesimo scudo è intenzionalmente progettato in questo modo quindi potete alzarlo quando siete colpiti da un attacco anche se non vedete chi vi ha attaccato bene quindi ottimo ottimo ottimo. Allora ragazzi questo spero sia stato un video breve ma intenso certamente ora sicuramente l'incantesimo scudo ha meno segreti per voi rispetto a prima certo sono sicuro che nessuno di voi perdeva il sonno per questo incantesimo però se non altro ora ne sappiamo qualcosina in più e se vi sono rimasti di dubbi naturalmente vi aspetto sotto nei commenti ricordatevi di lasciare il mi piace a questo video e anche di farmi sapere in questo modo se approfondimenti di questo genere vi interessano oppure se ne desiderate degli altri allora ragazzi alla prossima e buon gioco a tutti ciao 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 ragazzi ciao ciao ciao